Acerbo, il dopo referendum vede tante polemiche, tante dichiarazioni, il dato dice che la prevalenza dei no è stata netta. Secondo lei ci potrà essere un risvolto in chiave abruzzese di questo referendum? Come ho commentato la notte delle elezioni, secondo me ci dovrebbe essere il presidente D'Alfonso che ha abusato del suo ruolo istituzionale bombardando gli abruzzesi con la campagna per il sì, cosa piuttosto scorretta come il comportamento d'altronde di tanti altri amministratori e anche sindaci del PD dovrebbe tirare le conseguenze e dimettersi. So ovviamente che non lo farà, nonostante voglio ricordare D'Alfonso ha scritto a tutti gli abruzzesi a tempestati di sms, telefonate, ha organizzato adunate da tutte le parti in Abruzzo il sì ha preso meno della media nazionale, quindi una sonora bocciatura di questa classe dirigente. D'Alfonso ovviamente non si rimetterà, ma faccio notare che almeno dovrebbe, con coerenza, parola che non gli è nota, applicare quello che ha raccontato. perché D'Alfonso si è presentato alle elezioni dicendo che come primo atto avrebbe ridotto lo stipendio dei consiglieri regionali e degli assessori regionali del suo a quello del sindaco della città capoluogo, l'Aquila. Non lo hanno fatto per due anni e mezzo e hanno anche chiesto il voto per il sì al referendum per realizzare un obiettivo per cui non c'è bisogno di modificare la Costituzione, ma basta che voti il Consiglio regionale. Adesso D'Alfonso lo faccia per rispetto non solo di chi ha votato no, ma soprattutto di quei malcapitati che continuano a dargli retta e hanno votato sì, con un minimo di coerenza, visto che lui è uno che combatte la casta, si tagli finalmente lo stipendio e ponga fine allo scandalo dei doppi e tripli vitalizi.